Questo è un altro esercizio in cui bisogna applicare le regole per risolvere le formule inverse. Allora, questo è un classico esercizio di un corpo che si muove con una velocità v pari a 2 metri al secondo, dopo aver percorso uno spazio iniziale secondo zero di 2 metri e uno spazio totale di 10 metri. Voglio sapere, questo è il risultato che voglio tenere, quando tempo è impiegato a percorrere complessivamente i 10 metri. In pratica io devo risolvere questa equazione in funzione dell'incognita t. Allora, sostituiamo i numeretti al posto delle lettere e quindi abbiamo 10 uguale a 10. è a 2 per t più 2. Quindi la mia equazione è questa e io devo risolverla in funzione di t. Allora, cosa faccio? La prima cosa che faccio è portare il 2 dal membro di destra a sinistra. Fare questo devo cambiare di segno perché applicherei la proprietà dell'equazione che aggiungendo, sottraendo ad ambi membri uno stesso numero l'equazione non cambia. Allora, in soldoni significa semplicemente portare il valore più 2 dall'altra parte cambiando di segno. Quindi viene 10 meno 2 uguale a 2 per t. Faccio questa sottrazione. 10 meno 2 fa 8 uguale a 2 per t. Adesso devo determinare t. Allora, per fare questo, vedete, 2 moltiplica t. Se 2 per t è uguale a 8, t è uguale chiaramente a 8 diviso 2. Quindi questo 2 che moltiplica t lo porto dall'altra parte passandolo però al denominatore. E quindi mi viene che t è uguale a 8 fratto 2. Chiaramente ricordatevi sempre che il fatto che adesso t si trovi a sinistra e non più a destra non cambia assolutamente nulla perché questa è un'equazione. Quindi o la leggo così o la leggo così è la stessa cosa. Quindi 8 diviso 2 fa 4. E adesso verifichiamo che effettivamente 4 sono i secondi. Per fare questo dobbiamo praticamente sostituire l'unità di misura. Allora, 8 cosa sono? 8 sono i metri perché è lo spazio totale meno lo spazio iniziale. Quindi sono metri. Diviso 2 che è la velocità, cioè metri al secondo. Ricordate il giochino di prima? Questo è uguale a 4 per metri per secondo fratto metri. Quindi frazione di frazione, metro. Qualcuno si chiederà ma perché m metri è una frazione? Perché se io divido per 1 qui, io posso dividere qualsiasi numero per 1. Ottengo sempre lo stesso numero. Quindi ecco qui quella frazione. Qualcuno non credeva che questa era una frazione, invece è esattamente una frazione. Perché qualsiasi numero intero è sempre diviso per 1 e il risultato dà sempre lo stesso numero. Allora io dividere queste due frazioni significa moltiplicare la frazione a numeratore per il reciproco della frazione a denominatore. Allora a questo punto metri e metri vanno via e mi restano i 4 secondi. Proviamo a fare qualche esercizio sulle formule inverse. Supponiamo di dover risolvere questo problema. Abbiamo un corpo avendo una massa di 10 kg. La sua densità è pari a 2 kg su un metro cubo. Voglio sapere il volume che occupa questo corpo. Bene, per risolvere questo esercizio dovrò fare uso di questa equazione. Che in un altro non è che la definizione di densità. Densità uguale al rapporto di massa fratto volume. Io conosco il valore sia della densità che della massa. Devo determinare il volume del volume. Per fare questo devo fare la formula inversa per ricavarmi il volume. Allora, proviamo a fare la formula inversa partendo da questa equazione per ricavare il volume. Allora, la prima cosa che posso fare è, chiaramente io dovrò ottenere un risultato in cui v sarà uguale a qualcosa. Allora, per fare questo la prima cosa che devo fare è portare il volume dal denominatore di questa frazione al numeratore. Allora, per fare questo applicherò una delle proprietà dell'equazione che dice che moltiplicando prima e secondo membro per uno stesso numero l'equazione non cambia. Allora, vado a moltiplicare esattamente per il volume. E quindi avrò che moltiplico sia da una parte che dall'altra per v. Quindi v per d è uguale a m fratto v per v. Allora, tutto questo mi è servito perché adesso v e v, perché v diviso v è uguale a uno e quindi mi resta che v per d è uguale a m. Quindi v per d è uguale a m. Ancora devo isolare il volume, quindi devo spostare la densità e riportarla al secondo membro. Allora, per fare questo vado nuovamente ad applicare la proprietà dell'equazione che dice che dividendo ambo i membri per uno stesso numero il risultato non cambia. Quindi allora andrò a dividere sia il primo membro che il secondo membro per cosa? Per la densità. In questo modo d e d si semplificano e quindi mi resta che il volume è uguale al rapporto della massa diviso la densità. Andiamo a sostituire i valori e avremo 10 kg fratto 2 kg su metro cubo uguale a 5. Attenzione perché dobbiamo fare le operazioni anche con le unità di misura. Allora, qui in pratica che cosa succede? Succede che kg su kg va via e a denominatore resta 1 fratto metro cubo che equivale a metro cubo. Risolvo passo passo perché se no non riuscite a capire. Allora, kg fratto kg fratto metro cubo. Ok? Questa è la situazione che abbiamo qui. Solo per quanto riguarda le unità di misura. Questo è uguale a scrivere kg per, quindi questa è frazione di frazione, che è uguale alla frazione al numeratore per il reciproco della frazione al denominatore. Il reciproco della frazione al denominatore è metro cubo su chilogrammo, capovolto. Allora, chilogrammo e chilogrammo va via e mi resta metro cubo. Quindi in definitiva il risultato sarà 5 metri cube. Cube.